Sono leggermente grigie, cioè nere No, Mario non lo conosce a Manfri Marti, tu lo sai chi è Manfri? No, io penso che sia un gran figo Diventerei omosessuale No, scherzo Cazzo, è lì in fondo! È lì in fondo, cazzo! È lì in fondo! No, 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 no Piccolo... Piccolo errore No, è sbagliato No, invece l'ho vista! Oh mio Dio! Ma è la barca sulla gravel! Perché c'è tipo una farm Sono Veneto, sì, raga, è un bot Ma sto lama qui? Botto Veneto, sono io No, è del Trentino, si sente Sono morti nel foglio di casa mia Se fossero stato un bastione Quello lì sarebbero morti Che è sto blocco? Che cazzo è sto blocco? È che intanto mi distrago E leggi! Donazione estemporanea senza messaggini No, no, infatti, infatti, ma Mi... Ehm, se no, leggi! Leggi, dai, 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 letto! Bravo! Bravo, tech, leggi! Sai leggere! Bravo! Allora, io so già che prima Richiuderò un record mondiale Se mai lo dovessi fare Dirò Hello, guys! This is for my brother, Kohe The... 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 The papers Cioè, the... Come si dice? Paper, no? Hello, hello! Every... Everyone! Hello! This is the quack Polare The duck Ti fa studiare un botto Lui ti sgancia i tre Proprio nelle tre Se ne strafotte Ad esempio, in seconda, una volta Cosa ha fatto? Oddio! Ma che club ha fatto? No, raga, fermi tutti! Franci! Come ti sei salvato In quel momento? Cazzolina! Che... Che club che hai fatto? No, che... Che club? Che cazzo dico? Che clutch? Clappa, scusami Non volevo confonderti Comunque, wow! Bravo! Comunque, stavo a dire Peranita! Oh, ehi! Sto l'ascoltato! Quello spune al 90, spune! C'è che spune al 90? 64 C'è che spune al 90? Ci sono i pokemon al 90? Prendilo! Eh, sì, sì, vai poi mi aiuta, poi mi aiuta Mi aiuta mi Ovviamente devo combattere Non è la 90? Ok, abbiamo... Cosa? Cosa? No, eh... Aspetta che ma un culo! Aspetta che mo' ma un culo! Aaaaaaah! Bella, vada, 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 vada! 200 chest qua E 200 chest qua Sono 600 chest in totale Con l'autosmistamento Per favore Gesù Fai sì che il prossimo nether Sia un bastione Con una fortezza Grazie Dai, ma dammi qualche cazzo di blocco di netherite Ma cosa ti costa? Qua, 5, 6, 7, 8 8 Fatemi... Ma? What's poppin? Ma, Stefi! Quando qualcuno copia le mie frasi in chat M-H-M-H-M-H-M-H Oh! Detto questo alza le mani 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 Se non lo fai o lo fai Mi mandi su IG il video Dove ti fai le undicenne? No, 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 fermi, fermi Non è assolutamente vero Non è assolutamente mai fatto un undicenne E potrei perché sono... No, non potrei Non ho fatto nulla, signori Allora, fermi, fermi Torte, torte Eh, torte Dice torte, Katia Torte, buone Buone, io lo st'ammazzo Eh, non dilla a Lulu Eh, prima Lulu ha fatto le torte lì E ieri mi scappava C'è un picciaro sopra Però non so se siete maniati ora Non lo so Però non sei lamentata Quindi vuol dire che ci sia piacere Aspetta Mi sa in questa la clipperai Guardate Ma il clipper, la clipper Al giorno vai a runnare le eliche Dai, perché sennò Poi non è più speed questa speed Ci mettiamo otto ore sulla pres... Minchia Minchia L'ha detto Cristo Ma allora, ma allora Ma allora il coglione che sono Gliel'ha fatto capire Risentiamo un attimo Proprio come se fosse una melodia Non c'è problema Riprendeteveli tranquillamente Dai, perché sennò poi non sarà C'è successo? Timeno Cosa? Al posto della leva Così si disattiva da solo No Allora, bimbo di merda Ehi, dai Va bene Dai, cosa siete? Via, via, via Tino, 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 Tino Abei, hai siamo stani La cattro mi ha cascitto non svegli di guardare il culo della bucca vai scomparsa no 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 shit il F***